Ecco il motivo per cui nei miei video vedete principalmente il piccolo levrero italiano rispetto al bulldog francese. Spesso nei commenti mi dite che io voglio bene soltanto uno rispetto a che l'altro, ma non è così. La blu è arrivata in un momento della mia vita dove tutto si stava complicando. E se solo ne sono riuscito ad uscire in parte, questo è sicuramente merito suo. Di certo io non sono qui su TikTok per raccontarvi i miei problemi, ma per farvi capire l'amore che ho verso i miei animali. In più lei è proprio il mio primo vero cane. Infatti mi occupo solo ed esclusivamente io di lei rispetto magari al bulldog francese dove è più il cane di famiglia. Una cosa è certa, io le voglio bene entrambe.